Paletti della discordia a Pesaro, sul ciglio della banchina di Levante e del Porto, sono state installate delle protezioni in vista della stagione estiva. L'obiettivo è assicurare un transito pedonale in maggiore sicurezza, prevenire comportamenti illeciti e pericolosi per le persone. Dei paletti rossi e bianchi che ha detta dei cittadini, però, sono esteticamente fuori posto. Qui la sicurezza non c'è, quello lì non serve a niente, secondo me non serve, però qui le critiche ci sono, anche fatte dal nostro sindaco e via via. Però qui chi comanda è la guardia costiera, perciò andare contro di loro è un po' difficile. Io non saprei cosa dire, io ho visto anche metterli su qua, a parte hanno fatto un lavoro un po' così, all'americana. Penso che per la sicurezza si può passare di sotto, si può passare di sopra, se ti appoggi penso che voli giù, quindi non lo so a cosa serve. Bisognerebbe chiedere alla capitale di Porto il motivo, cioè chi l'ha voluto questo, per quale motivo l'ha voluto fare. Non so, per delimitare qualcosa, ma sicuramente per la sicurezza io non la vedo neanch'io sicuramente funzionante. Sono utili per la sicurezza? Sì, perché c'è le catene, le persone la sera magari non ci sono, i fiari sono un po' più stretti e se ne vanno giù. È sempre una sicurezza, anche per i bambini. Un assurdo quello che è stato fino a ieri, le banchine, i tavolini e tutto, e non c'era nessuna protezione. Uno beve, un bambino gioca, ti finisce qualcuno in acqua, eppure hanno avuto il permesso di farlo tranquillamente. Adesso mettono queste catenelle, non so se è per la protezione là, che a mio avviso non è una protezione perché le catenelle sono alte, un bambino che gioca ci finisce sotto e uno che litiga con qualcuno ubriaco finisce in acqua lo stesso. Per cui come protezione non sono. Sono anche antiestetiche, secondo me non dicono niente. Non si arruina niente perché se un bambino passa sotto, quindi non lo salva, può salvare uno con la bicicletta, ma vedo difficoltà che posso andare là, finora non è successo mai niente, tutti i giorni vengo. Ma più che altro potrebbe anche essere un'idea, ma il colore, il tipo è sbagliato, non è in sintonia con l'ambiente che abbiamo circostante. Un'installazione non gradita dal comune di Pesaro. A tal proposito il sindaco Matteo Ricci ha chiesto ufficialmente la rimozione. Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Andrea Biancani che ha parlato così delle nuove protezioni. Innanzitutto è stato un errore installarli. Io non ho capito veramente qual è stato il reale motivo, anche perché il porto, come tutti i porti, hanno le darsene e quindi non ho mai visto da nessuna parte installate dei paletti per la sicurezza. Le persone ovviamente non è che si divertono a cadere nell'acqua e neppure i bambini. Devo anche dire che se va avanti l'idea, che devo dire che condivido, che quella di mettere a terra quelli che sono dei segnali che vengono utilizzati dagli ipovedenti, come abbiamo ad esempio in corrispondenza delle stazioni, da quel punto di vista mi trovo sicuramente favorevole, perché ovviamente un ipovedente, una persona che non vede, che si ritrova in quella zona, magari per loro potrebbe essere sicuramente pericoloso.